Ancona Macerata in treno per raccontare le iniziative della Regione Marche nella settimana europea della mobilità sostenibile, ma non solo, illustrato anche il report di Rete Ferroviaria Italiana sui lavori svolti nel tratto Civitanova Albacina. Partiamo dalle iniziative con tappe in tutta la regione per tutta la settimana per aumentare la cultura del viaggiare senza inquinare. In un territorio bellissimo, noi vogliamo riuscire a coniugare il trasporto su Rotania. Qui siamo lungo il percorso, voi avete potuto notare i primi lavori propedeutici all'elettrificazione dell'intero tratto. Non solo questo, abbiamo fatto una serie di investimenti, come sapete, sulle ciclovie che ci hanno comportato anche una serie di attacchi numerosi, però noi siamo convinti che questa sia la strada giusta per rispettare l'ambiente, per attirare un turismo di nicchia ma comunque importante e soprattutto per valorizzare i nostri centri dell'entroterra. Ma per aumentare la mobilità sostenibile serve anche che il trasporto, come quello ferroviario, sia molto attrattivo. Gradiremmo che lasciassero l'automobile a casa e che cominciassero ad utilizzare in modo più frequente il servizio pubblico. Chiaramente su questo noi ci siamo anche impegnati per aumentare il livello prestazionale del trasporto pubblico locale e in questi ultimi anni abbiamo raggiunto anche ottimi livelli di affidabilità, di puntualità e anche di garanzia, di comfort, insomma. E questo ovviamente ci viene anche riconosciuto nell'ambito della customer, nel viaggio nel suo complesso ci viene riconosciuto tra i più alti d'Italia. Sappiamo che dobbiamo fare ancora molto, però è un lavoro che sicuramente ci darà delle grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda la Civitanova Albacina, gli investimenti sono arrivati in due tranche, una di 40 milioni di euro, l'altra arriverà nel 2020 per altri 70 milioni, tutti per elettrificare la rete. È un intervento totale che è battezzato come elettrificazione ma che ci consente di fare anche opere per potenziare una linea che negli anni è stata un po' non abbandonata ma tralasciata e quindi verranno fatti interventi per migliorare l'accessibilità, marciapiedi alti, sottopassi, verranno potenziate le informazioni al pubblico. Sono in fase di realizzazione anche interventi importanti ai PRG delle stazioni che consentiranno di avere standard di sicurezza più elevati. A regime avremo una linea quindi con standard qualitativi e di comfort migliori e anche nel rispetto dell'ecologia perché circoleranno treni elettrici e non più treni diesel.